Cominciamo con Castagnotto Conticini, prego, vai, accomodatevi Due belli, due belli, due belli, saranno sicuramente una bella frase Allora, accomodatevi, io vi do una parola e voi, lettera per lettera, dovete comporla Quindi sdraiatevi pure comodamente, pancia in su Preferisci a destra o a sinistra? Allora, la parola che dovrete comporre è gnomi, cominciamo con la G Allora, la G, provate Si lasci guidare Ah, io vorrei però che lei si concavasse, bravi Emo, aspetta, no, stai, stai Io lascio fare te, eh Allora, però la G, così tipo Allora, facciamo una cosa Eh, così dovete ruotare la mano Fai così, girati, vieni, scusa, dammi le gambe, dammi le gambe Così, aspetta, la faccio così io Ma che è? Mettiti così Sono confusa Ma cosa state facendo? La G Ma voi sapete scrivere, sì? Sì, certo Dai, brava, va bene, va bene Fermi, fermi che la fotografiamo Ok Ok, perfetto N, N, N N, la N, la N La N, la N Ma no, ma così, guardami Ssh, ssh È perché io la vedo al contrario Eh no, sei dritto tu? È al contrario Così Ah, giusto È così, è perfetta È perfetta N, è perfetta La O, la O, la O Vai Cococo Esatto Mi, mi, mi Oh, perfetto M, M, M N, la M è facile, dai Bravo Che professionismo N, bravi Andiamo con la I La I? Sì Dovete sommare Ma la faccia in giù La I, sommati, sommati Vai giù, giù Ma facciamolo così Sopra, sopra, sopra Questo è il punto Sopra, sopra, esatto Così Oh Amore La parola era gnomi Devo dire sono stati bravi Bravi, bravi Dai G, N, O, M, I Bravi Fate un applauso a Paolo Conticini E Vittoria Castagnotto Ma non vogliamo la cosa Un bel 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 Una giornata in vivo Non mi dà lo senti Sei tu Proviamo a vedere In tre che cosa accade Procopio Marta e Max Venite Dovrete scrivere Relax 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 R Faccio la stecca Tu fai la zambetta Fai la zambetta Io con la chierica faccio il cocco Esatto 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 Vai Mi devo fare tutto Bravi Bravi R Chiudi di più Testa, testa Va bene Va bene Va bene Va bene E Va bene E E Facile Io rimango stecca Io rimango stecca La E Qual era la stecca? Qual era? L'E Relax R E E qual è? Qualcuno vuole venire a fare una zambetta Aspetta Parire, parire Parignosa Io fa un po' più su Una paragnosa Perfetto L, L, L Rimango stecca Fatti sotto Ah no Fatti sotto Io faccio un'altra Bravo Bravo L A A A Procopio Cosa si prova a guardarsi così dall'alto? Aspetta Procopio Ragioniamola meglio Una domanda Cosa si prova a guardarsi così dall'alto? Guarda la chierica Voi non guardate Ah Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene X X Ci dobbiamo risommare E te che l'è signorina Così però Così Tieni questo centrale Piano Ed io Si sommi Si sommi Si sommi Si sommi Si assommi Pronti Quanto più tempo richiede apparecchiare bene una tavola Quanto più tempo richiede apparecchiare bene una tavola